Era mattina, erano le tre. Quell'aria non aveva coscienza. Ti offrivi al primo fresco e... perché? Cani da guardia, ore, perché? Perché te stesso? La ghiaia in strada si faceva chiara, la fontana rideva tra i bossi, intorno erano cose molto femmine, disinvolte ad esistere. Passavi il filo spinato, senza scarpe, rientravi al convento.